Io sono Petra, mi sembra un po' di essere la presentatrice del TG in questo momento. Comunque buon pomeriggio, come state? Siamo di nuovo ad un nuovo appuntamento e oggi abbiamo un nuovo ospite qui sul gruppo, non sul gruppo, sulla pagina, che dico gruppo. Allora intanto che aspetto che vi colleghiate, controllo anch'io che ci sia il collegamento. Intanto chi sta guardando se può darmi un segno che sentite e vedete bene, così so di non parlare a vuoto. Ok, dovrei esserci e c'è già qualcuno. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Spero che ve la state passando bene a casa. E se non sapete cosa fare in questi giorni che siete a casa, oggi vi darò io uno spunto. Infatti ho un ospite molto interessante che sicuramente vi darà tanti ottimi consigli. Aspettiamo ancora un pochino che vi raggruppate. Ah, intanto chi si sta collegando, intanto che aspettiamo anche gli altri, ditemi un po' se avete fatto l'allenamento che ho pubblicato ieri, che era molto carino secondo me. Quello è giusto un assaggio di quello che poi insegno al corso, perché poi all'interno del corso online, che adesso lo sto facendo in promozione, poi ci sono allenamenti ben più, diciamo, definiti, strutturati, più tosti. Però volevo darvi comunque un assaggino di come allenarsi con gli esercizi che abbiamo appreso in questi giorni. Allora, vedo già, ciao Simo, buonasera, buon pomeriggio, anzi, è ancora chiaro fuori. Buon pomeriggio. Beh dai, siete già un po' collegati, bene. Allora, come vi ho scritto sia nel post che anche qua adesso sopra la diretta, oggi avremo con noi, a breve la presenterò, sarà con noi Ingrid Benincasa. E non vi svelo più di tanto, però diciamo il suo cognome dice molto di cosa parleremo oggi con lei. Quindi attendo ancora qualche istante che vi collegate e poi ve la presento. Datemi qualche feedback, qualche pollice se si vede e sente bene, che non ho visto ancora. Ho visto, allora, ok, perfetto. Ecco, adesso ci siamo, riesco a vedere i commenti, bene. Bene, bene, vi state collegando. Ok, di nuovo ben pomeriggio a chi si è collegato adesso. Un saluto qua dalla pagina Viso Informa. Come vi ho anticipato, oggi ho con me l'ospite Ingrid Benincasa. E non so se qualcuno di voi ha letto il libro Il magico potere del riordino della giapponese Marie Kondo, che tra l'altro anche io sono andata a vedere, perché me l'ha detto l'ospite di oggi, che ci sono su Netflix delle puntate di questa Marie Kondo. e quindi se qualcuno ha seguito quelle puntate sa di cosa parleremo oggi. Comunque adesso ce lo spiegherà nel dettaglio Ingrid. Infatti adesso, mi raccomando, accogliamola con tanti pollici e cuoricini. che vi presento, Ingrid Benincasa. Ingrid ti collego. Eccoci, buonasera, buon pomeriggio anzi. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao, grazie per l'invito. Ciao Ingrid, grazie a te per aver accettato, per diciamo arricchire un pochino, far passare questi pomeriggi, queste giornate, che ormai sono un po' tutte uguali. però cerchiamo di dare anche un po' di contenuto, un contributo a queste giornate. Assolutamente, qualcosa da far fare. Esatto, esatto. E tu sicuramente, quello che ci dirai oggi, sicuramente un ottimo suggerimento da fare, proprio in questo periodo. Allora, Ingrid, giusto brevemente, puoi un po' dirci cosa fai? Cosa fai intanto? Cosa fai? Cosa fai, come sei arrivata a quello che fai? Insomma, presentati brevemente. Ok, allora, io sono appunto Ingrid Benincasa e sono una delle tre consulenti certificate italiane del metodo di riordino con Mari. Come abbiamo detto prima, Mari Kondo è una giapponese e della guru del riordino, autrice di best seller, quali Il Magico Potere del Riordino e 96 lezioni di felicità. Mari Kondo ha ideato un metodo di riordino e si chiama metodo con Mari, che deriva proprio dal suo nome, ed è uno strumento meraviglioso per fare ordine all'interno della propria casa, utilizzando il fattore gioia, ossia tutto ciò che ci circonda ci deve dare gioia, altrimenti non avrebbe senso tenerlo nella nostra vita. Nel momento in cui iniziamo a fare una selezione di tutto ciò che ci circonda sotto proprio questo punto di vista della gioia e dello star bene, è automatico che anche tutto ciò che fa parte della nostra vita, quali circostanze, situazioni e persone, possano subire lo stesso trattamento. Quindi, se una situazione non ci dà più gioia, possiamo decidere liberamente di lasciarla andare, così come le persone. E lo dico proprio in prima persona perché a me è successo così. Ho chiuso delle amicizie dopo dieci anni perché non mi facevano stare bene e io non tornerei mai più indietro alla situazione precedente. Sono diventata consulente con Mari dopo un percorso durato circa un paio di anni. Io nella mia vita ho fatto tutt'altro. Io sono laureata interprete e traduttrice, ho sempre lavorato nelle aziende e fino al momento in cui sono andata in Giappone per un viaggio di piacere e ho letto il libro di Mari Kondo, il primo, Il magico potere del riordino. Me ne sono follemente innamorata. Sono tornata a casa, ho fatto il riordino di tutta la mia casa. Questo riordino è durato all'incirca 4-5 mesi e grazie a questo riordino io ho capito che cosa volevo della mia vita. Quindi il lavoro che facevo, che avevo fatto per 20 anni non mi faceva più star bene, non mi dava più gioia, non era più soddisfacente e quindi ho scelto di diventare consulente con Mari per aiutare altre persone che si trovavano nella mia stessa situazione a stare bene, partendo dalla casa e da tutto ciò che ci circonda in casa per poi arrivare a stare meglio proprio come persona al di fuori. e secondo me è una cosa meravigliosa, è veramente una cosa fantastica. Concordo. Hai detto che hai messo 5 mesi, qua abbiamo un po' meno tempo a disposizione in questa quarantena, quindi dobbiamo essere veramente bravi a farlo. Assolutamente sì, di sicuro chi lo inizia in questi giorni avrà da fare proprio fino a quest'estate, quindi anzi sono certa che una volta terminato questo periodo di quarantena andrà avanti a farlo, e piuttosto uscirà tra 6 mesi pur di farlo, perché i benefici sono veramente tangibili. Che quindi non è solo il fatto di piegare i vestiti, ma come hai detto tu, proprio lasciare andare, cioè c'è anche un significato profondo al di là del fatto solo di buttare via cose vecchie e proprio questa filosofia... Esatto, la maggior parte delle persone crede che il metodo KonMari sia un metodo di piegatura ed è diciamo errato, ossia alla base di tutto il metodo c'è la cernita, quindi la selezione di ciò che vogliamo ottenere nella nostra vita e di ciò che invece vogliamo lasciare andare. Io non utilizzo quasi mai il termine buttare, perché buttare intanto per me ha un'accezione negativa. Tante persone appunto quando dico cosa faccio dicono no no no, tu mi fai buttare le cose quindi zero. Io preferisco lasciare andare. Lasciare andare significa dare una seconda possibilità ai nostri vestiti, ai nostri oggetti che noi non amiamo più, di portare gioia a qualcun altro, a un'altra persona, quindi di rivivere una seconda identità, di fare una seconda vita e di far felici altre persone. Quindi se noi non proviamo gioia con questo oggetto, possiamo provare gioia nel donarlo agli altri. Quindi questo è il fondamento del metodo KonMari. Successivamente, una volta scelto che cosa tenere in casa, si può pensare alla collocazione o, parlando di vestiti, alle piegature. Quindi è una seconda parte. Il metodo KonMari prevede una piegatura di un certo tipo, però non è solo quella. Quindi non si può dire io seguo il metodo KonMari perché piego bene le cose. Perché puoi avere sì un armadio ordinato, imparando a piegare in un determinato modo, ma immagina di avere anche cose che non usi e cose che non ami. L'armadio ti sembrerà comunque disordinato perché gli oggetti creano rumore, fanno rumore. Se si tratta di oggetti che ami, suonano una melodia meravigliosa. Se si tratta di oggetti che odi o comunque che non sopporti, non ti piacciono o ti irritano, mi vengono in mente i vestiti mio malgrado stretti e appena li vedo mi viene il panico. Ecco, quando li vedo io sto male. Quindi suonano... E dici, li tengo così, ho una unità di misura per quando dimagrirò, ce li ho lì, però ti creano ansia perché sai che non so quando, chissà quando arriverà quel giorno. Esatto. E in questo caso devo dire, quando capita di avere questi vestiti, si può... si hanno due opzioni. La prima opzione, questi vestiti li vedo e mi... e fungono da spunto, proprio da motivazione per rimettermi in riga. E quindi in questo caso possiamo tenerli e guardarli, non nasconderli, guardarli, perché più li guardiamo più ci viene voglia di ritornare in forma, appunto. Quando invece questi vestiti sono un motivo di turbamento, di depressione e non appena li vedi ti viene voglia di andare a aprire il frigorifero e mangiare, ecco questi lasciali pure andare perché il loro scopo non deve essere quello di abbatterti e di farti stare male. Quindi in quel caso tienili se comunque hanno una funzione positiva, lasciali andare se hanno una funzione negativa. E questo vale non solo, adesso stiamo parlando principalmente di vestiti ma anche per tutte le cianfrusaglie, gli oggetti che si hanno, i ricordi, le foto e spiegaci un po' anche come si parte se c'è tutta una inizia con un gruppo di appunto dei vestiti poi Allora, esatto, il metodo con mari è un metodo appunto di riordino che si basa non sul luogo in cui si trovano gli oggetti quindi non andrò mai a dire oggi riordino il bagno, domani riordino la cucina e dopo domani riordino la cantina. Questo perché? Perché tante volte, nella maggior parte delle volte abbiamo gli stessi oggetti in diverse parti della casa. Con il metodo con mari vai a fare un riordino a seconda delle categorie. Le categorie sono cinque i vestiti, i libri, i documenti, gli oggetti misti, miscellanei che mari chiama a comono e i ricordi. In questo caso quando tu fai una cernita, quindi una selezione, partiamo dai vestiti perché è la categoria più semplice ed è la prima da fare. La successione che vi ho detto deve essere fatta in maniera corretta perché parte dalla categoria più semplice appunto ai vestiti per arrivare alla categoria più difficile che è quella dei ricordi perché come sappiamo benissimo i ricordi hanno un potere emotivo elevato in noi stessi. Quindi se io dovessi iniziare a prendere tutte le foto del mio bambino, le tutine di quando è nato, l'abito da sposa e io dovessi decidere che cosa tenere e cosa lasciare andare sarebbe veramente veramente dura perché la mia capacità di percepire la gioia non sarebbe elevata cosa che invece avviene nel momento in cui inizi dai vestiti che sono quelli più semplici da fare anche se per qualcuno dai vestiti è dura perché si tengono vestiti di 15 anni fa 20 anni fa il cappotto quella maglia anche i vestiti se già quello è difficile figuriamoci poi continuando con i ricordi anche i vestiti per qualcuno nel caso in cui tra i vestiti ci fosse qualche ricordo posso pensare a una maglietta dell'università o idea oppure al vestito mi viene in mente spesso il vestito regalato dalla nonna che noi abbiamo utilizzato per un po' che però poi non ci sta più bene quindi l'abbiamo lì ma lo teniamo perché non si sa mai in quel caso lì non dobbiamo fare la cernita in quel momento ma dobbiamo metterli da parte e li faremo alla fine con i ricordi la stessa cosa vale per tutte le altre categorie sia con i vestiti con i libri magari abbiamo il libro che ci hanno regalato i nostri nonni piccole donne e l'abbiamo lì ma non lo leggiamo più non ci interessa più ma non siamo in grado di lasciarmi andare perché è un ricordo i soprammobili le bomboniere che comunque hanno un ricordo man mano che si prosegue con il percorso e quindi con le categorie prendete una scatola o un sacchetto mettete i vari oggetti che appartengono ai ricordi ed accantonateli li farete alla fine in modo da non confondersi all'inizio quindi non fermarsi subito procedete in maniera semplice secondo appunto il metodo e arriverete a ricordi veramente pronti e in grado di percepire individualmente che cosa vi dà gioia che cosa non vi dà gioia anche nelle foto nei ciucci dei figli nelle lettere d'amore del fidanzato e così via si poi ha detto ciucci poi uno magari tiene le cose per quello che viene dopo per la figlia quando crescono anche per questo motivo si accumula a casa perché si tiene per quelli più piccoli o per dare alla figlia beh allora quello certo quello lì è lecito assolutamente quindi bisogna trovare uno spazio dove collocarli nel frattempo in quel caso lì si possono utilizzare gli scatoloni scrivendo fuori non lo so 0 1 1 2 comunque classificandoli così una volta che li aprite li troverete immediatamente e già guardando fuori capirete no questo qua tra un anno lo tiro fuori quest'altro va bene adesso e così via fatelo in modo organizzato e ben comprensibile a chiunque anche al marito certo adesso volevo invitarti ti ho invitato qua in diretta proprio perché adesso ci stiamo avvicinando ovvero a breve inizia la primavera quindi quale momento migliore per fare le pulizie primaverili e considerando che adesso tanti sono in quarantena a casa è tutto il momento giusto per un pochino applicare i tuoi suggerimenti io ho iniziato alcuni cassettini a piegarli diciamo come insegni tu ti ho chiesto hai qualche esempio così le persone anche vedono sì assolutamente sì allora posso prendere chi poi vuole vedere più in dettaglio Ingrid è molto presente anche su Instagram o su Facebook è la sua pagina quindi potete andare a vedere qualche suggerimento anche là esatto poi te l'ho chiesto se poteva aveva giusto una scatola o qualche cassetto da mostrarci allora io ho tirato fuori il mio cassetto degli slip che è semplicissimo tiro fuori io utilizzo tanto le scatole questo perché non ho molti cassetti e utilizzando i cassetti si possono verticalizzare proprio secondo la piegatura con il metodo tutti gli indumenti quando apri tu vedi immediatamente cosa ti serve infatti sì infatti secondo questo metodo è molto particolare anche le magliette la maggior parte delle persone siamo abituate a metterle una sopra l'altra invece secondo questo metodo con mari le mettiamo praticamente a modifisi armonica circa esatto tutte in verticale una di fianco all'altra tu apri e dall'alto vedi esattamente quello che è quello è bellissimo sì esatto allora io ho portato appunto il mio cassetto con gli slip non sono tutti perché alcuni sono in lavatrice però ed è così anche in scala colore perfetto preciso sì sì perché ti dà gioia appena li vedi e come vedete io uso questa scatolina semplice e la metto nel comodino che ho di fianco al letto stessa cosa per i boxer di mio marito anche in questo caso ah che bravo tuo marito anche tutto bello stivato no aspetta che c'è il suo io che tira fuori io metto via quindi il marito ma com'è nella famiglia tu sei quella che riordina e invece gli altri non ti seguono e sono disordini loro non mi seguono tant'è che molte dicono ma io sono ordinata mio marito mio figlio mia figlia non sono ordinati cosa posso fare nulla purtroppo nulla perché il riordino è una cosa individuale parlo del riordino proprio nel vero senso della parola quindi la cernita scegliere che cosa tenere quando si tratta di collocazione poi è tutta altra cosa magari mio marito e mio figlio non hanno mai fatto cernite non vogliono farlo e quindi non posso assolutamente obbligarli cercano in qualche modo di aiutarmi a non tirare fuori troppe cose però come potete vedere se mio marito ha bisogno di un paio di slip non è che deve tirarne fuori i 700 lui sceglie quelli che vuole tra quelli che lui vede esattamente magliette è la stessa cosa mio figlio è la stessa identica cosa una cosa bella di mio figlio che vado a raccontarvela allora mio figlio appunto metodo con mari non ne vuole neanche sapere vabbè magari in futuro lo farà però ha capito cosa significa amare un capo e ha acquistato un paio di pantaloni sportivi che lui desiderava tantissimo e tuttora che li ha metterebbe esclusivamente quelli erano da lavare al che dico Simo questi qua li laviamo li metto in lavatrice mi fa no mamma per favore però me li puoi piegare come maricondo e me li metti in lavatrice così quindi cioè è divertente anche questa cosa perché capisci proprio il valore proprio l'amore che tu provi per per gli oggetti che hai per i vestiti che hai e quindi questa è una cosa divertente simpatica e così potrebbe essere per tutto quello che abbiamo perché spesso non so anche qualche regalo oggetto che ci regalano noi lo teniamo lì più che altro per gli altri perché magari ci vengono a trovare o che ne so ti senti quasi in colpa se lo butti via una cosa regalata che non ti magari trasmette chissà cosa due cose la prima vi faccio un esempio di una donna che ho aiutato qualche mese fa aveva una scatola con dentro ma grossa con dentro un centinaio di bomboniere al che le chiedo ma scusa queste e lei mi ha risposto guarda non posso buttarle via perché semmai dovesse venire la zia oh mamma semmai dovesse venire la zia dov'è la sua bomboniera al che le dico beh aspetta le ho spiegato come funziona il metodo le ho spiegato come fare dopo un mese circa mi scrive e mi dice guarda avevi ragione mai nessun parente mi ha mai chiesto delle bomboniere io le tenevo lì occupavano spazio le ho buttate tutte e che ho detto va bene ok se ti sei sentita in dovere di farlo hai fatto bene tanto erano lì occupavano solo spazio prendevano polvere anzi addirittura non non abbellivano neanche la casa perché erano tutte chiuse soffocavano in una scatola e quindi e quindi le ha buttate preciso una cosa a proposito dei regali come hai detto tu lo scopo di un regalo qualunque tipo di regalo è di dare gioia a chi lo riceve quindi proprio il gesto del donare e del ricevere è in sé di per sé motivo di gioia nel momento in cui questo scambio è stato fatto lo scopo del dono è terminato non sentitevi in dover di tenere quell'oggetto esclusivamente per non fare un torto alla persona che ve l'ha regalato eventualmente potreste sì dargli una possibilità vi hanno regalato un profumo vi hanno regalato un vestito provatelo se non vi piace lasciate stare non dovete sforzarvi altrimenti terminerebbe proprio il fattore gioia potete riregalarlo a vostra volta i miei parenti marito suoceri e via dicendo hanno paura a farmi regali perché sanno che poi se io non li apprezzo io li fa brutto dirlo beh fa brutto dirlo però li riciclo al che loro sanno che io amo le candele e quindi ogni anno quindi Natale e compleanno mi regalano le candele oppure i buoni i buoni nei vari negozi dove vado e credo che sia il dono migliore almeno per me il dono migliore certo aspetta che prendo qualche domanda che ho già visto che bello dai sì allora intanto qua ti salutano ringraziano poi c'è ciao grazie che chiede dove hai acquistato dove si acquistano le scatole che hai fatto vedere allora questa nei negozietti quelli che vendono un po' di tutto dei cinesi non c'è più il prezzo ma l'avrò pagata sieno a due euro quindi è molto bella per me mi dà un sacco di gioia è resistente in cartone poca spesa tanta resa invece questa è di questa qua è il coperchio di una scatola di scarpe è venuta fuori una polemica tempo fa dicendo sì che schifo le scatole delle scarpe io vi assicuro che sono molto più pulite delle scatole di scarpe nuove ovviamente non quelle che avete da 3.000 anni tutte impolverate rispetto a dei comodini che io ho visto prendete le vostre scarpe magari passateci un panno pulitele un pochino magari anche una carta ma certo ma certo ma assolutamente sì a proposito mi sono dimenticata prima di farti vedere ieri sera ho fatto una diretta in un gruppo di una mia amica esclusivamente riguardante le piegature adesso vi faccio vedere in questa scatola sempre di scarpe di mio marito ci ho fatto stare dentro un sacco di robe sono magliette allora no 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 immaginate di dover partire andate in vacanza e fate la vostra valigia il troll e il valigia io qua sono riuscita a farci stare un paio di jeans miei uno slip mio un boxer di mio marito un reggiseno mio un paio di collant miei altri due calzini miei che sono questi fantasmini questi un pochino più corti calze di mio marito leggings top senza maniche comunque con le spalline maglia manica lunga e maglia manica corta in una scatola del 41 di scarpe ci ho fatto fare tutta questa cosa quindi vedete soprattutto quando dovete partire piegare verticalizzando in questo modo vi aiuta a ottimizzare gli spazi in una maniera eccellente però non deve essere troppo schiacciati no esatto esattamente molti pensano che piegare in questo modo i vestiti crei le pieghe non è come si piegano i vestiti che li stropiccia ma è la pressione che si danno ai capi cioè che si dà ai capi più i capi sono stretti più logicamente nelle pieghe delle dove siete andati a piegarle si creeranno quelle bruttissime pieghe esatto tant'è che in teoria un cassetto di magliette mi viene da dire dovrebbe essere riempito all'80% della sua disponibilità totale questo perché le maglie hanno comunque un po' di gioco rimangono sempre su se piegate bene rimangono su comunque hanno un pochino di gioco e vi permette eventualmente di metterne qualcuna in più qualora dovreste comprarne oppure anche tirandone fuori un bel po' rimangono sempre li belle immaginate quando piegando le magliette sempre parlando di magliette nel metodo standard io purtroppo non mi ricordo esatto non mi ricordo come si piegano le magliette normali mettete cioè mettete nessuno mettetene tipo 5 6 7 adesso non so quante ce ne possono stare in un cassetto quella sotto anche se è piegata benissimo come tutti pensano quella sotto la tirate fuori e ha proprio il tatuaggio della piegatura questo perché tutte le maglie sopra sono andate a comprimere a comprimere quindi la piegatura in questo modo per me per me personalmente è la migliore perché ti permette di vedere come in questo caso voi vedete esattamente quello che avete colori che avete è molto pratico perché con il metodo così tiri quella sotto e tutte le altre esatto io ho applicato anche questo metodo per gli stracci in cucina per i panni infatti stavo dicendo proprio questa cosa io piego in questo modo tutto le lenzuola gli asciugami sì 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 allora mi faccio aiutare da mio figlio da mio marito giusto per la piegatura iniziale quella dove poi arrivi ad ottenere un rettangolo però poi le piego e arriva sempre la pallottina ad esempio mi viene in mente la maglietta questa è la maglietta come l'ho piegata e anche per le lenzuola per gli asciugamani sarà un pochino più spressa logicamente però otterrete sempre questo che sta in piedi anche da solo quindi agli asciugamani devo cambiarli oggi mi sento rosa e tiro fuori quelli rosa dimenticavo asciugamano quello da viso quello grosso con asciugamano quello un pochino più piccolo io metto quello piccolo dentro a quello grosso e da lì inizio a piegare e li chiudo di modo che tiro fuori uno tiro fuori la coppia ah ok quindi non hai singoli ma li accoppi già subito li accoppio sì sì perché tanto li compro già in coppia e quindi sono già così abbinati così non devo star lì a cercare questo quest'altro questo la parte sopra con chi va tiro fuori già pronto allora vediamo qua cosa scrivono patrizia scrive certo che puoi fare qualcosa riferita al figlio smettere di ordinare per loro allora una cosa che ho fatto col figlio è smettere di comprare per lui lui ha tredici anni tredici e due mesi più o meno fino a due anni fa sì vabbè quasi due anni fa quando io ancora il metodo con Mari non sapevo cosa fosse compravo i vestiti per lui la mattina glieli preparavo lui doveva solo svegliarsi mettersi i vestiti che avevo già preparato calze maglia tutto era già pronto mi regalavano dei vestiti magari io mi trovavo in un gruppo dove ci si scambiava i vestiti ma quelli si chiama te lo regalo ma te lo vieni a prendere piuttosto che buttare le cose io butto tutte le persone lì dentro le faccio andare lì di modo che si riciclano le cose e io compravo prendevo un sacco di cose per mio figlio però secondo i miei gusti mi sono resa conto però che mio figlio non aveva cioè proprio era arrivato a undici anni senza un proprio gusto personale è che dicono forse sto sbagliando ho smesso di prenderglieli ho smesso di comprarglieli io e gli ho detto Simone d'ora in poi si fa così vuoi una cosa vieni con me la compritella scegli te perché sei tu che sai che cosa ti piace che cosa non ti piace io mi ero trovata a dover ad avere lì venti felpe e lui ne metteva solo due che erano quelle che tra tutte quelle che gli avevo prese mi piacevano e che lì ho detto ma ok ma si buttano via i soldi in questo caso cioè sono vestiti sprecati basta gli ho fatto fare una cernita l'ho aiutato è stato un po' pesante ci ha voluto un bel po' però l'ho aiutato ho fatto una cernita dei suoi vestiti di venti felpe ne ha tenute due però almeno lui quando apre l'armadio ha cose che ama si sta creando un suo stile personale quindi poi alla piegatura ci arriverò prima o poi forse però finché ci sono io lo faccio io poi quella povera moglie che si ritroverà vabbè la più differenza tra piegare e appendere giusto ancora oh sì allora cioè cosa appendere e cosa piegare se una persona ha un armadio stile hollywood dove può appendere tutto perché ha una stanza intera solo per sé può appendere tutto quello che vuole la piegatura serve quando non si ha spazio in primis e quindi piegare ottimizza appunto gli spazi come avete visto prima io ho fatto stare un cambio per due persone per due giorni in una scatola piegare non è solo un semplice piegare è anche un come dire si parla col capo perché con il calore delle mani è come se ci fosse uno scambio di energie con il capo quindi lo ringrazio per il lavoro che fa ti veste ti protegge e è come uno scambio d'amore uno scambio d'affetto quindi a me piace piegare ma anche proprio per questo motivo perché poi più ami una cosa più te ne prendi cura e più questa cosa durerà nel tempo pensavo che fossero vestiti che è consigliato piegarli altri invece che consigliato no tutti i vestiti possono essere piegati basta trovare il loro punto magico e il punto magico è quello che ti permette una volta piegati di farlo stare in piedi ok tranne mi viene in mente delle magliette o degli slip anche se sono riuscita a stare in piedi anche gli slip delle magliette fatte di un tessuto veramente molle che potrebbero stare in piedi però con l'aiuto di due maglie una di fianco all'altra quello sì eventualmente quella maglia si può appendere io piego l'80% dei miei vestiti non piego quindi appendo le giacche le camice i pantaloni o i vestiti in un tessuto che sono fatti di un tessuto che già solo a guardarlo si stropiccia e poi molto bello quelle gonne o quelle maglie che io stramo e che secondo me appese sprigionano la loro bellezza tutte quelle gonne tipo che si usavano in primavera scorsa magari spero che si riusino ancora adesso quelle tipo con tutte frufru con tutti i volant quelle cose lì è un peccato piegarle si è bello capire l'armadio e vedere magari anche di un colore che ti dà gioia e di bacità esatto io quando apro il mio armadio io starei ora a guardarlo perché lo amo lo amo tantissimo ha un sacco di cose che a me piacciono non tante ma sono tutte quelle che io adoro io amo io non lo so sarebbe bello se tutti provassero le stesse emozioni che provo io quando entro in casa mia perché io l'ho fatto con i vestiti ma successivamente l'ho fatto anche con gli oggetti con le cose della cucina con il comono con tutto ciò che mi circonda io amo tutto bene aspetta che ti riporta ancora qualche domanda è vero che con questo metodo occorre fare il riordino tutto insieme non a tappe allora il riordino con mari è un riordino eccezionale attenzione non sono le pulizie quando si pulisce si pulisce la polvere lo sporco quando si riordina si fa pulizia all'interno della propria vita perché tirare fuori tutto ciò che ti appartiene racconta di te racconta chi tu sei stato dall'inizio della tua vita o comunque da quando tu hai iniziato ad avere quelle cose fino al giorno stesso il riordino è importantissimo quando una persona vuole cambiare ha la vita ideale che vuole raggiungere quindi facendo pulizia del suo passato può ripartire dal momento in cui fa pulizia e può fare le sue scelte in ottica del futuro che lui desidera quindi se io fino ad oggi mi vestivo di nero ma io in futuro voglio vestirmi di rosa devo capire che il nero forse è il caso di lasciarlo andare perché io non sono più nera io voglio essere rosa ok questo per spiegare la differenza tra pulizia e riordino si tratta di un riordino eccezionale lo fai una volta solo nella vita tutto ciò che farai dopo mettere via sarà un riordino chiamiamolo così giornaliero che però viene fatto in forse un quarto del tempo che può servire attualmente a chi non ha la casa riordinata quando riordini assegni una casa ad ogni cosa ed è proprio per questo o meglio grazie a questo che poi quando vai a riordinare successivamente ci metti poco perché sai già dove vanno le cose e quindi non rischi di metterle in giro per casa cosa vuoi dire ad ogni oggetto una collocazione una collocazione fissa mi viene in mente le chiavi di casa non buttatele in giro sul cassetto sul comodino sulla borsa entrate in casa c'è un comodino o non lo so una mensolina quello è il posto delle chiavi di modo che quando uscite ad occhi chiusi le prendete chiudete rientrate ok ringraziate io saluto la mia casa tutte le volte che entro vabbè ma io proprio perché sono mentalmente con Mari c'è chi parla con le piante c'è chi parla con la casa esatto esatto io infatti ho detto ho letto un libro meraviglioso che parlava di superpotere non è una roba pazzesca ognuno ha un proprio superpotere e io ho capito che il mio superpotere è parlare con le case ed è e sono felice quindi io saluto la mia casa così come quando faccio le consulenze a domicilio io mi presento alla casa prima di iniziare tutto il riordino io chiedo qualche minuto per presentarmi alla casa in silenzio e da lì parte tutto e fila tutto liscio perché sembra una stupidata ma la casa risponde la casa ti conosce conosce chi ci abita e quindi ti aiuta anche a fare ordine e a migliorare la tua vita ritornando al discorso di prima bisogna farlo una volta sola o meglio io ci ho messo 4-5 mesi c'è chi ha la casa un po' più piccola o un po' più grande che ci può mettere di più il tempo è relativo e varia a seconda delle quantità di oggetti che hai non è detto alla grandezza della casa perché magari tu hai una casa di 200 metri quadrati e sei minimalista e tieni poche cose quindi è la quantità di oggetti che hai perché tu dovrai fare la cernita su ogni singolo oggetto e la tua capacità di percepire il senso della gioia quindi di saper scegliere che cosa tenere e che cosa lasciare andare c'è chi può farcele in meno tempo c'è chi può farcele in più tempo l'importante è che decidi di farlo e lo fai ad esempio domani lo faccio però fallo perché più vai avanti più la voglia ti passa rischi che ti passi se lo fai fallo secondo il metodo prenditi una o due ore tre ore non lo so adesso che siamo appunto in questo periodo particolare di tempo volendo per qualcuno c'è e quindi potrebbe cominciare davvero a seguire il metodo con mari per poi arrivare alla fine di questo brutto periodo nuovo diverso cioè approfittare di un periodo brutto per creare una cosa bella cioè per me è fenomenale è meraviglioso hai rincontrato scusami se ti ho interrotto differenze tra non so uomini e donne nel lasciare andare nel le pulizie chi è quello che trattiene di più diciamo le donne le donne le donne le donne io gli uomini è più facile eliminare lasciare andare noi donne siamo molto ci affezioniamo a tutto amiamo qualunque cosa gli uomini no gli uomini sono un po' più cinici non me ne vogliate uomini però è vero cioè ho lavorato tempo fa con un uomo lui aveva tantissime magliette ma veramente tantissime e velocissimo in cinque ore di consulenza abbiamo fatto tutta la categoria dei vestiti tutta perché era sì ma sì perché dopo aver imparato come si fa quindi gli ho spiegato come si faceva gli ho dato degli spunti io durante una consulenza supporto se no cosa sarei lì a fare una volta che hai imparato è andato liscio cosa che hai detto complimenti cioè bravo bravissimo no gli uomini riescono a lasciare andare meno cioè c'è più facilità meno difficoltà meno difficoltà infatti c'è Bruna che scrive il problema è che quasi tutto a casa mia è pieno di ricordi ed emozioni contemporaneamente gioiose e tristi convivo quindi con stati emotivi perennemente malinconici allora Bruna si chiama? sì ecco forse è il caso che inizi a pensare un po' più a te stessa e a volerti un po' meglio non ti conosco eh ah eccola qua Bruna non ti conosco però io mi sento di dirti così cioè la vita è una è tua sfruttala al massimo inizia a prenderti cura di te stessa ripeto magari lo fai già però mi viene proprio dal cuore di dirtelo provaci prova a riordinare secondo questo metodo davvero la tua capacità di percepire ciò che ti fa star bene aumenterà io ho di esempi ne ho un sacco mi viene in mente una delle mie prime clienti lei ha un bar lavora col marito ma la sua passione è fare torte è una cake designer eh abbiamo iniziato il percorso man mano che passava il tempo facevamo le cate seguiamo le categorie le cernite a un certo punto mi dice senti Ingrid io io non sono felice io non non voglio più fare questo lavoro io voglio vivere di quello che amo ha messo in vendita il bar il marito ha trovato un altro lavoro ha messo in vendita il bar e non so se è stata io a dirlo di farlo assolutamente ci mancherebbe altro però è lei che circondandosi di ciò che ama ha capito che quello che faceva non amava e quindi ha scelto proprio di cambiare vita ma è una cosa bella non è una cosa brutta da temere cosa succede mi fa il lavaggio del cervello no perché io non dico nulla io non ho potere nel momento in cui voi scegliete che cosa tenere io vi aiuto a capire che cosa tenere quindi è una cosa è una magia e poi che ci crediate o no io ci credo altrimenti non fare questo lavoro nel momento in cui iniziate anche solo a dire e a pensare io da domani voglio riordinare perché voglio questa vita questa voglio diventare così l'universo in qualche modo inizia ad attivarsi e quindi non a caso una delle ultime ragazze che ho seguito ogni giorno mi manda dei messaggi e mi dice guarda Ingrid mi sta succedendo una roba meravigliosa cioè è una magia delle cose che prima non pensavo potessero succedere nel momento in cui io ho iniziato a eliminare le cose pesanti cioè quando fai quando ti liberi cioè respiri ti senti bene tutte quelle cose che prima appunto soffocavano esatto non ti senti soffocare davvero è come se si aprissero delle porte che tu prima non pensavi neanche l'esistenza non le conoscevi l'esistenza e e arrivi tranquillamente a a raggiungere davvero i tuoi obiettivi come è successo a me io ho lasciato il mio lavoro e sono diventata consulente certificata con Mari bello lo riferisco a fare altre cento volte bene mi fa piacere è sempre bello quando si riesce si è la fortuna di fare lavorare ciò che si ama cioè perché anche quando vengono i momenti diciamo bui se fai quello che ami comunque ti mantiene in forza io mi sveglio la mattina che dico ok benissimo oggi che cosa posso fare ma con gioia prima quando andavo a lavoro scusate ma che barba poi andavo tranquillo lavoravo perché ai tempi mi piaceva ma verso la fine era diventata una tortura no troppo forte c'è Nicoletta che chiede come si chiama questo metodo e dove posso trovare il blog tutti i dati di Ingrid ben in casa la sua pagina li scriverò al termine di questa diretta così potete andare a curiosare a vedere il metodo l'hai già metodo con mari con la k k o n mari che praticamente è mari condo e quindi lei ha utilizzato proprio metodo con mari c'è Elisa che saluto che dice sto facendo il percorso di riordino con mari è una sensazione bellissima vedere tutto in ordine è vero sì sì è vero e poi è contagiosa la gioia è contagiosa vediamo se c'è ancora qualcosina altrimenti pian piano andiamo verso il termine di questa diretta e comunque potete andare poi a vedere altri video un po' più specifici perché qua abbiamo voluto giusto farvi vedere insomma in cosa consiste e per chi ancora non lo conoscesse appunto farvi scoprire questo nuovo mondo con mari allora qua altri commenti non ne vedo quindi aspettiamo ancora qualche secondo intanto grazie Ingrid grazie a te è sempre piacevole parlare con te veramente allora vediamo se c'è ancora qualcosa niente non vedo altri commenti quindi possiamo terminare qui questa diretta che comunque è pubblicata sulla mia pagina se per caso qualcuno scriverà qualche domanda ancora in seguito o averla vista indifferita magari ti riporterò le domande e risponderai sì assolutamente sì ok grazie grazie mille grazie e gli altri adesso gli suggeriamo di sfruttare questo momento anche per decidere scegliere se tutto quello che hanno a casa è davvero necessario o se possono lasciarlo andare esatto quindi hai proprio da dove iniziare giusto uno spunto una chicca un suggerimento dal libro dal libro il magico potere del riordino di Marie Kondo ok e in casa invece iniziare dai vestiti ah scusa sì eh sì 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 è la prima categoria devo iniziare dai vestiti ma la cosa principale è qual è la tua vita ideale perché vuoi riordinare che scopo a che scopo solamente una volta in cui hai capito chi vuoi essere qual è la tua vita ideale potrai fare il percorso senza alcun intoppo perché avrai la motivazione per farlo senza motivazione la vedo difficile e la motivazione non è perché voglio la casa ordinata sì ok ma perché la vuoi ordinata quindi riflettete su quello e poi quando avete deciso e siete sicuri procedete col percorso bene molto bello grazie Ingrid grazie a te grazie a tutte voi bene un bacione e buona serata a presto altrettanto ciao 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 bene vi saluto anch'io spero vi sia piaciuto questo argomento di oggi con Ingrid e ripeto questa diretta rimane pubblicata qui sulla pagina quindi potete andare anche a rivedervi rivedervi all'inizio se ti sei perso o persa appunto l'inizio e noi ci vediamo domani con un altro argomento non so ancora se ci sarà un qualche esercizietto di yoga facciale o qualcos'altro sempre alle 5 e mezza un abbraccio a tutti e buona serata ciao